Finalmente stiamo inaugurando la prima sezione della mostra di Antoine Deleny che abbiamo concepito tre anni fa circa e che ha avuto tutto sommato un grande vantaggio dal Covid perché ci ha dato molto più tempo per lavorarci. Come poi si potrà vedere dallo splendido catalogo, ci sono molte cose nuove che sono state scoperte, riscoperte, approfondite in questo anno di passaggio. La mostra è veramente interessante, si svolge su due sedi a Susa e a Palazzo Madame a Torino e presenta questo pittore straordinario della fine del Quattrocento che è venuto un po' dal nulla e finalmente si è scoperto che era un grandissimo protagonista del Rinascimento europeo. Io sono Marco Galateri di Genola, sono un collezionista e quindi sono anche un proprietario di alcuni di questi quadri. La mostra è veramente interessante perché, come dicevo, Antoine Deleny è il padre del Rinascimento piemontese. Grazie. Grazie. Grazie.